La prima auto è stata scagliata, accartocciata, nel canale che costeggia la statale, poco prima del centro commerciale 13, per quanti procedono con direzione Ferrara. La seconda, pure pesantemente danneggiata, è rimasta in bilico sulla scarpata e solo il pronto intervento del personale dei vigili del fuoco ha consentito di evitare che finisse nello stesso modo in acqua. I pompieri l'hanno assicurata con una corda al proprio automezzo, sino all'arrivo del soccorso stradale. È stato un incidente davvero spaventoso, quello avvenuto verso le 22 della serata di sabato 15 maggio, poco fuori Rovigo, esattamente tra il benzinaio e lo svincolo che dalla statale 16 conduce all'area del 13.